In forme umane, che differenza c'è tra l'età della pietra neolitico, in cui l'uomo addomestica piante e animali, sorgono i primi villaggi e le prime comunità, e l'età del rame, dove l'uomo impara a forgiare col fuoco il rame. Gli utensili e le armi di pietra scompaiono progressivamente. L'unica differenza è quella che vige in tutti i tempi umani. Le coscienze dell'età del rame hanno bisogno di incarnarsi in forme umane più adeguate alla loro maggiore evoluzione rispetto all'età della pietra. Grazie.